Ha tre graffi sul lato destro del collo, due sul sinistro. Il naso mostra dei segni scuri, come se qualcuno l'avesse stretto con forza, e in diversi punti della testa sono state tagliate ciocche di capelli, probabilmente con le forbici trovate accanto. Sulla pancia, coperte dal maglione rosso, alcune lacerazioni piccole, ma molto nette, come se fossero state incise con uno strumento affilato.